le belle giornate che stanno arrivando che sono arrivate è normale che facciano il voglia di vivere all'aria aperta e di stare aperto a maggior ragione è comprensibile e capibile in questi tempi di questi periodi dove credo che tutti abbiano voglia di tornare a una vita normale il prima possibile io per primo come voi desidererei tanto ritornare a una vita normale però dobbiamo dirci altrettanto onestamente che nonostante la nostra esasperazione ed è assolutamente comprensibile questa cosa non ce la possiamo ancora permettere non ce la possiamo ancora permettere perché perché il contagio continua a diffondersi in modo importante significativo e le persone ricoverate negli ospedali sono ancora tante tante persone ancora in terapia intensiva tante persone positive ricoverate e sottoposte a cure e un grandissimo sforzo da parte di tutto il personale assistenziale e sanitario i numeri della nostra città che sono in linea con quelli della nostra regione e della nostra provincia ci dicono questo che la situazione non è migliorata pesantemente anzi è abbastanza stabile il totale dei contagiati della seconda ondata quindi diciamo dal dal primo settembre è arrivato a 3.508 oggi le persone residenti ad esio che sono positive sono ancora 365 i decessi sono stati 51 nella seconda ondata però il dato secondo me da valutare da considerare di più è che ogni giorno ormai costantemente da parecchie settimane il dato dei positivi non oscilla ma è sempre oscilla intorno ai 20 oggi siamo alla media sette giorni 24 positivi ogni giorno quindi il contagio c'è il contagio continua a diffondersi e il contagio si diffonde perché noi abbiamo contatti ora so di chiedervi un grande sacrificio e questo badate bene non è che mi fa felice dovervelo chiedere però io capisco che le giornate sono belle però abbiamo in giro troppe persone nei parchi nelle piazze ce ne sono veramente troppe troppe e se ce ne sono troppe il rischio che il contagio invece di diminuire quindi di conseguenza diminuire la pressione sugli ospedali e quindi poter guardare prima possibile una situazione migliore e il rischio è che questa situazione si dilati di più ora questa è una cosa che riguarda il senso di responsabilità di ciascuno di noi so che tantissimi stanno rispettando le regole però l'invito che vi faccio veramente è quello di uscire fare la passeggiata ma non fermarvi non create assembramento non trovatevi a giocare nelle piazze nei parchi perché questa situazione genera una situazione di pericolo guardate l'età media dei contagiati oscilla intorno ai 42 43 anni e l'età media della popolazione italiana non c'è più una fascia rischio tutti siamo a rischio lo stesso modo ma quelli che rischiano di più sono le persone anziane che sono quelle che ho con patologie che rischiano poi di sviluppare le forme più gravi e quelle che in molti casi possono portare anche ad essere letali ecco io veramente vi faccio un appello vi faccio un invito vi esorto veramente a cercare di attenervi a queste regole fatela passeggiata ma per favore non stazionate stabilmente nelle piazze nei parchi nelle aree verdi perché la situazione è diventata veramente complicata ingestibile è comprensibile ma è sbagliata e se è sbagliata dobbiamo porre rimedio tutti assieme non è pensabile che ci sia una città militarizzata dove i nostri agenti polizia che si stanno impegnando che vengono continuamente chiamati dalle persone per segnalare assembramenti si muovono da una parte all'altra della città cercando di come dire di radarli ma che poi alla fine non riescono neanche ottenere l'effetto perché una volta che se ne sono andati ritorna tutto come prima ecco veramente io vi chiedo per favore di prendere in considerazione questa cosa è un sacrificio lo so lo so guardate non sono contento di chiedervo magari beccherò anche improperi sotto i commenti a questo post non per questo come dire ne avrò male però la realtà delle cose queste io vi devo dire come stanno le cose a voi l'invito a cercare di fare tesoro di queste parole e di tirare ancora la cinghia guardate la luce intorno in fondo al tunnel c'è la vediamo i vaccini stanno arrivando da domani si potranno aprire finalmente le prenotazioni online per le persone tra i 74 e i 79 anni a breve credo che saranno anche tutti ufficializzati le date di prenotazione per le fasce successive da metà aprile i vaccini in grandi quantità dovrebbero arrivare quindi partire la vaccinazione di massa veramente non possiamo dire che non vediamo davanti una prospettiva migliore ecco non cerchiamo non valifichiamo tutti gli sforzi che abbiamo fatto fino a oggi non dimentichiamoci di tutte le categorie che stanno pagando più di tanto e più di tutti magari questa questa situazione credo che lo dobbiamo anche anche a loro prima ritorniamo a una condizione normale prima ne avremo giovamento tutti e in particolar modo chi sta pagando di più questa questa situazione di crisi ecco credo che questa è una è una responsabilità che dobbiamo assumerci tutti vi faccio gli auguri di una buona pasqua a voi e alle vostre famiglie